Da destra verso sinistra e gialli a sinistra verso destra, il cross in mezzo, preda del portiere, ricomincia il giallo, no i blu recuperano palla e c'è il gran gol di Elif Elmas se non sbaglio Il gol di Diego Demme, quindi il gol finale di Diego Demme, gol vittoria immagino Sì perché la partitella ci sembra essere sostanzialmente finita Perché gli azzurri stanno sostanzialmente rientrando negli esploratori Possiamo clippare la partitella e poi la rivedrete integralmente sui nostri profili Mentre rientra anche Vittorio Simen negli esploratori Possiamo anche andare su...